Si pregano ai signori passeggeri di allacciare le cinture e di godere il viaggio con biglietto di ritorno dall'inferno. Ero spaventato dall'idea di essere arrestato. È la nuova stagione di Prigionieri di Viaggio. Le cose non hanno funzionato. Una stupidaggine. Hai avuto una giornataccia? Non hai ancora visto nulla. Prigionieri di Viaggio, dal 14 settembre, su National Geographic Channel.